Medaglia d'oro nel ciclismo su pista per l'Italia nell'inseguimento a squadre a Tokyo 2020. Il quartetto azzurro Simone Consolni, Filippo Ganna, Francesco Lamonna e Jonathan a Milan ha trionfato in finale sulla Danimarca con una straordinaria rimonta negli ultimi tre giri facendo registrare anche il record del mondo. Protagonista assoluto Ganna, travolgente nel rush finale fino al sorpasso in Estremis. L'ultima medaglia nella specialità un bronzo a Messico 68 e un oro a Roma 60.